Sono state presentate presso il centro direzionale di Ancona le iniziative in programma per celebrare i 70 anni di confartigianato imprese Ancona-Pesero-Urbino che prenderanno il via il 16 luglio ad Ancona per chiudersi le 2 ottobre a Fabriano. È un'associazione che si è evoluta che partendo prima da curare quelli che erano esclusivamente gli interessi delle imprese oggi invece si scopre a dover curare e dover supportare quelle che sono le visioni e le esigenze delle famiglie e delle persone perché all'interno delle imprese è sempre più importante il valore della persona e sempre più importante anche per la piccola impresa è fidelizzare i propri collaboratori. L'obiettivo è una visione innovativa dell'associazione. Noi crediamo che l'economia non abbia senso se non è collegata con il contesto sociale. Noi viviamo un contesto sociale complesso e quindi le nostre imprese lavorano e se lavorano tengono vivo il territorio che è il nostro obiettivo. Quindi l'idea di questi 70 anni è proprio quello di avvicinare l'imprenditore, il mondo dell'impresa alla persona, alla famiglia e al territorio. Le celebrazioni partono dalle volume 70 anni Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino l'impresa di Unire che racconta la storia della Confartigianato, le origini, le sfide, le conquiste e le difficoltà vissute. Il volume sarà presentato al Consiglio Direttivo il 16 luglio nel corso dell'evento Dialogo verso il futuro. Talk con il Consiglio Direttivo. Quanto impegno è stato messo sia dall'associazione che dalle unità che la compongono che sono sia all'interno dell'associazione ma anche all'interno delle imprese. Il 22 luglio si svolgerà l'assemblea del personale mentre il 7 settembre è in programma la festa del socio aperta in questa edizione a tutti i cittadini. Confartigianato già dall'anno scorso è iniziato a realizzare una serie di iniziative per permettere a famiglie, educatori ma anche agli stessi imprenditori di relazionarsi al meglio con le nuove generazioni. Quest'anno proseguiamo questa attività con il progetto Connettiamoci, Alziamo lo Sguardo verso il Futuro in collaborazione con ANCOS e l'associazione di TE. Il 14 settembre al Teatro delle Musi di Ancona il primo dei due eventi del progetto Connettiamoci, Alziamo lo Sguardo verso il Futuro. Il 20 settembre Confartigianato sarà presso il Senato della Repubblica a Roma per celebrare i suoi 70 anni con i vertici nazionali dell'associazione onorevoli e sindaci del territorio. Le celebrazioni per i 70 anni si chiuderanno il 2 ottobre presso il Teatro Gentile di Fabriano. Grazie a tutti.